Ciao a tutti le video amatrici e video amatori di Senza Fissa Dimora, benvenuti in questa nuova puntata della vecchia rubrica Autodiscussioni, una delle rubriche che a me sta più a cuore e mi piace di più perché posso parlare da solo in macchina e le idee che di solito si maturano da solo in macchina sono sempre fantastiche per quel modello che usiamo spesso su noi stessi di autoipnosi quando guidiamo in pilota automatico e automaticamente appunto pensiamo a tutto, a tutta la nostra vita oggi però vi volevo parlare, volevo rispondere a dire la verità con un video a un commento che ogni tanto si ripresenta sotto varie forme, sotto vari aspetti, però è interessante rispondere a queste persone perché così rispondo con un video, la prossima volta che c'è questo commento gli linko direttamente il mio video così ha la risposta lì e sono questa tipologia di persone che mi rispondono, mi scrivono scusate sotto ai video sì ma tu parli, tu parli ma cosa fai te nella vita, cosa fai no? tra l'altro molti di questi lo fanno con un tono che si legge nei commenti perché esiste la punteggiatura esiste il salutarsi, esiste scrivere buongiorno, io il primo video che vedo di lei mi interesserebbe sapere che cosa lei fa nella realtà per uscire da questo sistema, perché questo a mio avviso è il modo corretto di dirlo se te vi arrivi in un video e mi dici ma te cosa fai, fai del bla 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 in rete, sei proprio, per alcuni offendono anche e niente, ma tralasciando l'aspetto formale, strutturale perché molta gente avendo una vita un po' di merda è molto facile che veda negli altri la stessa merda che lui ha presente in abbondanza dentro di lui è un effetto speculare della vita, se noi dentro non siamo felici, tutto il mondo non è felice quello che noi vediamo, per dirla con una citazione di un fisico quantistico noi vediamo quella bellissima opera d'arte che noi vediamo è un'opera d'arte di cui noi siamo anche i pittori noi siamo il pittore e l'opera d'arte insieme ed è lo specchio, è proprio l'esempio più classico di questa cosa qui perché noi quello che vediamo è una persona allo specchio quella persona siamo noi, ma non siamo noi, è l'opera d'arte non siamo solo quello, quello che guarda lo specchio non sei tu l'osservatore non è quello che vedete nello specchio, per dire in parere poi al di là di questo rispondo a questa piccola introduzione rispondo a questo genere di commenti allora innanzitutto bisogna capire che se io vengo su youtube, apro un canale e tratto certi argomenti al di là di quelli che possono essere attualità al di là di quelli che possono essere fatti, notizie che ogni tanto appunto vi do volentieri condivido, non è che vi do le condivido con voi e magari le commento più o meno al di là di questo genere qui, gli altri argomenti che io tratto alcuni vengono da ricerche che faccio in quel periodo lì o in altri, ho fatto in altri periodi altri sono parti integranti, strutturanti del mio carattere se una persona non guarda solo un mio video e non scrive un commento solo in questa direzione qui quindi sotto il primo video che viene, magari non lo guarda neanche tutto si interrompe perché gli si accende la rotellina si appassa al passaggio livello fa una connessione uno più uno scrive un commento e ok, lui lo lasciamo perdere però chi invece è interessato a saperlo veramente si guarda un po' più di un video mio e magari lì riesce a capire anche quali sono gli argomenti che io tratto perché sono miei proprio interiorizzati ad esempio questo della deprogrammazione è un grande argomento della mia vita attuale e passato ma soprattutto attuale proprio per la situazione in cui stiamo vivendo proprio per le scelte che ho fatto e sto facendo e ho fatto in un passato molto recente se voi avete seguito un po' il mio canale avete guardato qualche mia live ne ho parlato più di una volta posso anche ridirlo io ho fatto delle scelte radicali in quest'ultimo anno proprio per uscire da quel poco di sistema in cui io ero dentro perché il mio sistema la mia dipendenza da questo sistema e quando dico sistema intendo dire meccanismo capitalista che regna sovrano il mio partecipare era veramente già ridotto ai minimi termini per esempio la scuola in sé per sé era già prima in epoca pre-covid una grande discussione nella mia famiglia su mandare o no i bambini a scuola anche perché le realtà che vivo io nella mia famiglia non sono quelle che vivete voi nella vostra famiglia e lo posso dire per certo perché ognuno ha le sue ma in più io vivo all'estero con una persona che non è italiana che non viene dall'educazione classica posso anche dirlo viene dall'educazione di Rudolf Steiner quindi già per me non avevo questa grandissima fiducia non ce l'ho ancora nel sistema scolare classico e infatti mia figlia non è a scuola classica non è iscritta alla scuola non va a scuola all'elementari e questo è stato ad esempio il primo passo mia figlia non ha fatto un giorno di scuola nella sua vita fino adesso poi dopo magari fra tre anni le rimando non lo so però fino adesso non ha fatto un giorno di scuola ufficiale hanno fatto pochissima anche asilo scuola materna non sono mai andati all'asilo nido non vengono affidati al primo che passa come un pacchetto non li do insomma me li sono guardati io fino da piccolissimi facendo delle scelte controcorrente non solo ma anche facendo delle scelte economiche di bassissimo profilo cioè se voi non lavorate per guardare i bambini a casa come tutti potranno sapere è molto più difficile campare è molto più facile mandare i bambini a scuola otto ore e andare a lavorare in fabbrica e fare quello che fanno tutti quella è la strada più facile e probabilmente è la strada che fanno molti di quelli che commentano in questo genere qui perché sono abituati a quello quindi non gli sembra neanche possibile che si possa tenere un figlio a casa te lo puoi educare a te ti prende la responsabilità a te di guardarlo di educarlo di portarlo in giro se c'è da portarlo in giro di farlo uscire insieme ad altri bambini magari te ne prendi su 4 o 5 te un giorno come papà un giorno se ne prendi su altri 4 o 5 un altro papà e un giorno lo fa un'altra mamma insomma tutti questi meccanismi qui di cui un giorno affronterò il più indettagliato però voglio fare dei piccoli diciamo webminar webminar dei piccoli conferenze strutturate per dare veramente dei consigli pratici alla gente che è interessata non mi va di dare le perle ai porci perché purtroppo è così mi dispiace però per certi argomenti bisogna un po' soprattutto quando si parla dei bambini bisogna un po' uscire da dalla diffusione di massa di youtube in specie entrare in una visione diversa più categorizzata più fatta per persone perché in quel modo lì si può aiutare veramente le persone che sono interessate che vogliono saperne di più non solo quelli che scrivono commenti o mi fanno un messaggio o cose di questo vario solo perché non hanno nient'altro di meglio da fare quindi questo è solo un esempio ma io di questi esempi quando farò delle cose più strutturate ne ho decine nella mia vita di tutti i giorni di scelte che ho fatto in maniera controintuitiva e in maniera molto distaccata dal sistema le sto facendo anche adesso e ne sto raccogliendo i frutti a volte i frutti sono amari nel senso che è una scelta comunque di responsabilità sia se questa riguarda i bambini ma anche il lavoro ma anche la scelta magari di essere un po' più indipendente economicamente è difficilissimo riuscire a trovare la strada non è una cosa che in molti non possono neppure immaginare che esiste e quindi appunto queste cose qui mi interesserebbe più che chi si avvicina al mio canale guardasse un po' più la globalità delle mie informazioni che do che guardasse un po' più la struttura della propria vita e non della mia vita perché il mio essere qui non è per insegnare ma è per dare alcuni esempi perché sono convintissimo nella vita che cosa insegnano veramente sono gli esempi non è il bla 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 ma il bla 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 arriva nel cervello e dal primo input e quindi ci vogliono tutte e due le cose per questo uno strumento come youtube può essere molto utile per dare un input che è quello del bla 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 però dopo si deve passare oltre se è il caso per la persona dall'altra per le due persone che ci vogliono sempre due persone minimo appunto per riuscire nella vita reale a fare quello che uno si sente di fare con i propri mezzi che non sono i miei ripeto io posso farvi l'esempio per indicarvi tra virgolette la strada ma siete voi che dovete prenderla siete voi che dovete aprire le porte siete voi che dovete fare i passi in base alla vostra vita al vostro passato al vostro presente al vostro futuro che non è il mio quindi prima di commentare magari soprattutto alcuni addirittura che mi dicono ma te come fai a viaggiare adesso quando ho scritto ho fatto tre poste su la Svizzera l'Italia e la Francia come fai a viaggiare adesso dove trovi soldi uno è mai scritto addirittura ma come fai a pretendere che adesso la gente pensi a viaggiare io non capisco primo non capisco perché uno non dovrebbe pensare a viaggiare adesso perché cosa c'è sono tutti morti ci sono i morti i cadaveri per la strada no se economicamente non ce la facevate prima probabilmente non ce la fate neanche adesso è la stessa cosa se ce la facevate prima ce la fate anche adesso dal mio lato dal mio punto di vista è il contrario dal mio punto di vista uno deve fare quello che vuole sempre e comunque è lì la libertà se poi dopo la cosa strana è proprio che questa gente qui fanno delle sono lì a puntare il dito perché in Australia non c'è la libertà per gli aborigeni di restare a casa loro e poi dopo sono contenti che non possono viaggiare accettano il fatto di non poter viaggiare così tranquillamente di non poter cambiare passare una frontiera non cambia niente siamo ridotti che c'è una percentuale c'è lo 0, qualcosa per cento di possibilità di morire la gente si chiude in casa quelli che invece dall'altra parte puntano il dito e ridono ah 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 voi è poi se loro hanno paura dello 0, qualcosa per cento di essere fermate dalla polizia e non escono dalla loro città provincia o nazione stessa stessa fobia e stessa leva emotiva però funziona così io cerco un po' di rompere questi piccoli schemi mentali con dei video tra l'altro che io poi non ho neanche fatto turismo perché sono italiano sono andato in Italia vivo in Francia è che la gente che commenta in questi canali qui non ha la minima idea né di chi sono non ha visto nessun video arriva lì scarica le sue frustrazioni quotidiane con un commento che da me viene cancellato quindi anche lascia molto il tempo che trova va bene io vi ringrazio molto per avermi sopportato fino alla fine di questo video spero che i miei argomenti siano come sempre spunto anche di una piccola riflessione magari in auto come me magari in viaggio come me oggi magari in questo momento sono fermo magari fermo in un parcheggio in riva al mare come me oggi vi ringrazio ancora vi invito a mettere un pollice in su se vi è piaciuto l'argomento trattato e a iscrivervi al canale se volete vedermi altre volte ciao a tutti e alla prossima ciao a tutti